Si è svolto a Milano il convegno promosso dalla consulta interassociativa nazionale dell'intermediazione che ha visto radunate le tre associazioni di categoria, Anama, FIAIP e FIMA. Tema dell'incontro è il passaggio dal vecchio ruolo mediatori alle sezioni del registro delle imprese e della REA, con riflessioni sul nuovo scenario che verrà così a crearsi per la categoria. Ad aprire i lavori il presidente nazionale di Anama, Paolo Bellini, il cui intervento si è focalizzato sulla necessità di recuperare uniformità nelle condizioni di accesso alla professione, spesso differente di provincia in provincia. Ha preso poi la parola Paolo Righi, presidente nazionale di FIAIP, il quale ha condotto un intervento tecnico sugli effetti del passaggio di ruolo per gli agenti immobiliari e sui vantaggi che esso porterà anche in relazione alla lotta all'abusivismo. Ha chiuso la prima parte del convegno il presidente nazionale FIMA, Valerio Angeletti, che ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione tra le associazioni per rendere riconoscibile e riconosciuto il ruolo reale dell'agente immobiliare. I temi trattati hanno coinvolto la sala gramita, con gli agenti presenti che si sono lanciati in lunghe considerazioni e vere e proprie discussioni in merito al futuro dell'agente immobiliare in Italia.